buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial per vedere come compilare la domanda per il concorso per titoli di esame abilitante all'insegnamento dell'educazione motoria della scuola primaria o per partecipare al bando di procedura selettiva inter analizzazione ex lsu 2023 allora da un motore di ricerca come google e scrivendo sulla motore ricerca piattaforma concorsi procedura selettiva del ministero dell'istruzione si arriverà proprio alla pagina per inserire questo lo speed e dunque loggarsi per entrare a fare queste procedure dunque in questo motore di ricerca avendo scritto piattaforma concorsi procedure selettive miur e andando proprio nella ricerca si arriva nella pagina piattaforma concorsi che la pagina proprio che dà accesso alla piattaforma andando al servizio si entrerà direttamente in primis nella pagina per loggarsi attraverso lo speed una volta loggate attraverso lo speed si entra proprio nella piattaforma concorsi procedure selettive e vediamo la lista delle istanze aperte cioè quella lista per cui si può presentare domanda la prima è disponibile per presentare la domanda e quello proprio per il concorsi per titoli di esame abilitante all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria dunque ci sono i riferimenti normativi l'assistenza del web web e le istruzioni di compilazione la domanda che è anche molto semplice si ricorda il link per pagare con pago pace pago in rete la procedura concorsuale cioè la partecipazione alla domanda questa diciamo è fondamentale per poi allegare questa ricevuta di pagamento alla compilazione della domanda che sarà fatta da questo banner compila la domanda stessa cosa va fatta per è fatta eccezione il pagamento che in questo caso non c'è la procedura la selettiva di internalizzazione dei servizi excel lsu 2023 per compilare la domanda basta andare su questo banner seguiranno a questo video tutorial altri video tutorial per far vedere come muovere i passi per la compilazione di queste due domande grazie per l'attenzione e arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti